Sotto questo meraviglioso cielo di stamattina c'è un mondo, una natura, piante, fiori e animali al quale il creatore ha dato la possibilità all'uomo, dandogli la consapolezza, di amministrarlo, di renderlo migliore e questo vuol dire non provocare atroci sofferenze a quegli animali col quale l'uomo si alimenta, non serve a niente e la carne sarebbe meno tossica. Già, capire la sofferenza quando si è sofferto vuol dire non darla più a nessuno, tantomeno agli animali. D'altronde la vita sceglie come far nascere ciò che oggi è animale e uomo e avrebbe potuto scegliere il contrario, noi essere animali e gli animali uomini. Quello che facciamo loro l'avremmo fatto noi stessi.